Oggi voglio parlarvi dell'obiettivo zootecnico sul Samoyedo. Quello che è in copertina è Jonathan di Colfoschio, il primo campione riproduttore nella storia del Samoyedo. Un cane che ha segnato la mia vita perché ha vissuto con me, diventando forse il Samoyedo più vecchio della storia, 17 anni e mezzo. La storia mia con il Samoyedo che è nata 40 anni fa con l'arrivo a casa di una campionessa, Clans Silver Sky, che nasceva da una campionessa del mondo come suor del Silver Tanzan, che poi prosegue fino ad oggi con il campione Sascha del Colombroso che non ha fatto tempo ad esserci in questo libro che scrissi prima che lui nascesse. Un libro in cui racconto la storia del Samoyedo in Italia ma anche 100 anni di campioni inglesi. Ringrazio Crepaldi per avermi dato la possibilità di fare questi libri come mi piacciono a me. Il prezzo di copertina è di 40 euro, come vedete non è un libricino, però per uno che ami questa razza credo che tra le informazioni, i campioni e le foto ci sia tanto da vedere e tanto da leggere.